Come lavoriamo con i maggiori clienti, i clienti Tire One, nel mercato in varie industrie? Ad esempio la media, la financial services, la transportation, la energy utility e la manufacturing. Grazie proprio a collaborare con i nostri clienti nel mercato, riusciamo ad apprendere questi nuovi modelli di business, queste tecnologie innovative, che i clienti stessi adoperano per vincere queste sfide di mercato. È da tempo che frequentiamo i programmi quadro dell'Unione Europea, e quindi collaborando con centri di ricerca, piuttosto che con università, piuttosto che con primarie aziende a livello europeo o anche mondiale, per aggiudicarci progetti di ricerca finanziata. Ce ne siamo giudicati già diversi e grazie a questo, diciamo, un'altra leva, per poter apprendere quelle tecnologie innovative, magari in un contesto ancora pre-competitivo, e quindi poi, una volta possedute, portarle nel mercato, portarle sui nostri clienti. Un paio di esempi. Tra i primi in Italia abbiamo appreso il cosiddetto linguaggio HBB TV, che è un nuovo linguaggio di sviluppo per sviluppare delle applicazioni all'interno delle smart TV. E' un linguaggio che sfrutta la cosiddetta convergenza fra il broadband e il broadcast, ovvero l'utilizzo di Internet all'interno della distribuzione dei contenuti più tradizionali. Un altro aspetto molto importante che stiamo approfondendo è il cosiddetto Internet of Things, dove stiamo sviluppando un framework che consente uno sviluppo molto più accelerato di molte app per prendere delle decisioni valorizzando la raccolta dei dati. Un altro ceno all'Internet of Things. Ci siamo giudicati a inizio anno un contratto di programma con la Regione Puglia per lo sviluppo di un prodotto di mercato che consenta l'introduzione dell'industria all'Internet of Things. Quindi stiamo già attuando un piano di assunzioni nel nostro Delivery Center di Bari per far fronte a questo progetto sfidante. Questo anche grazie al laboratorio di ricerca che abbiamo istituito appunto nel nostro Delivery Center di Bari che presto diventerà anche un centro di ricerca accreditato. Assolutamente sì, è infatti da un po' che diciamo al mercato che stiamo offrendo questo sviluppo software, questa consulenza IT in modalità Smart Shore Made in Italy perché in effetti il Made in Italy sia nella sartorialità, sia nel food, sia in tutta una serie di altri aspetti di creatività anche magari. Ebbene, noi vogliamo un po' valorizzare questa creatività italiana e portarla anche all'interno del software. Abbiamo strutturato un modello innovativo nel fornire la consulenza IT e siamo in grado di aggiungere anche una conoscenza di contesto, una conoscenza di business nei vari settori dove operiamo. Grazie. 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 Grazie.